Forse per gioco, forse per amore. Un giorno ho voltato le spalle a un lavoro a un tempo indeterminato, alle certezze di uno stipendio. Ho scelto di fare altro, di mettermi in discussione. Da allora sono stata ufficio stampa di eventi e associazioni cinematografiche. Ho scritto articoli, interviste, servizi, recensioni per quotidiani e riviste di settore. Ho fatto il cronista e il direttore di una testata, curato saggi, studi, ricerche sullo audiovisivo, coordinato convegni e eventi culturali. Sono stata nella direzione artistica di un grande festival televisivo, selezionatrice di prodotti e coordinatrice di giurie per otto edizioni consecutive. Ho scelto di inseguire delle storie, di osservare, inventare, scrivere, ascoltare, trasmettere voci e sguardi, cercare le parole giuste. Ho scelto di inseguire delle storie, di osservare, trasmettere voci e sguardi, cercare le parole giuste.